Anche Matteo Renzi in Abruzzo, ieri pomeriggio nella sala consigliare del Comune di Pescara con il leader regionale di Italia Viva Camillo D'Alessandro per il candidato presidente Luciano D'Amico. La lista è quella dei riformisti civici che in coalizione nel patto per l'Abruzzo unisce le anime di Italia Viva e socialisti. Renzi ha elogiato l'Abruzzo, gli abruzzesi, Flaiano, Sergio Marchionne, ma anche replicato alle stilettate di Marsiglio dal palco di Piazza Salotto. Le allenze possono essere fluide quando si privilegia la persona e la validità del suo progetto. Questa partita qui non è in gioco il futuro delle coalizioni nel mondo, è in gioco il futuro dell'Abruzzo e noi al futuro dell'Abruzzo teniamo e per questo pensiamo che D'Amico sia meglio di Marsiglio. Ma non c'è un racconto, una ricostruzione per la quale allora diventa una coalizione. Le faccio un esempio. Noi a Genova appoggiamo un sindaco che si chiama Bucci, che è molto bravo, però in coalizione c'è la destra e non è che io sono diventato alleato di Giorgio Meloni. Io voto Bucci a Genova perché lo ritengo bravo, come voto D'Amico qua, come voto in Emilia Romagna a Bonaccini o in Sicilia abbiamo votato la Galla. Ecco, si scelgono le persone. Quello che è interessante per chi invece vuole fare grandi considerazioni politiche è all'europee invece c'è il proporzionale. Allora lì bisogna votare Italia Viva a maggior ragione, anche alle regionali ovviamente, ma lì Italia Viva all'europee da sola.